Ciao a tutti, noi della protezione civile delle pubbliche assistenze di Empoli vi illustreremo nella campagna di onore rischio 2020 quello che è il rischio idrogeologico. In questo caso mi trovo sull'argine del fiume Arno, il fiume che passa per Empoli e qui accanto a me una cacerata, ovvero un'opera di ingegneria idraulica che permette agli affluenti di riversarsi nel fiume Arno e impedisce all'ondata di piena di farla uscire dagli argini. Oltre alle cacerate sul nostro territorio abbiamo le casse di espansione. Le casse di espansione sono sempre delle opere in ingegneria idraulica che servono a far abbassare l'ondata di piena. Un esempio vicino a noi è la cassa di espansione in costruzione a Montelupo Fiorentino. Quando sarà conclusa avrà la capienza di oltre 2 milioni di metri cubi d'acqua. La regione toscana mette a disposizione un servizio di monitoraggio e di allerta. Il LAMA ci permette di avere delle vigilanze di codice colore come le allerte di tipo giallo, arancione e rosso. Il CFR invece ci invia dati in tempo reale sul monitoraggio dei fiumi e della pluviometria. Qualora ci fossero alcuni problemi sugli argini possiamo intervenire con opere di sacchinatura o telonatura. Ciao! Ciao a tutti!